Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. La scorsa volta ci siamo interrotti, o per meglio dire, ci siamo salutati nei pressi del santuario perduto. Nostra sorella è scappata, non si sa che cosa aspetta i nostri amici, o per meglio dire il nostro amico in questione, oltre questa porta. Devo fare attenzione a quello che dico perché il rischio di autospoilerare roba che non vorrei, per cui sto zitto, che è meglio. E vediamo cosa c'è oltre questa porta. Doge! E vediamo cosa c'è. E vediamo cosa c'è. E vediamo cosa c'è. E vediamo! 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 Vabbè! Ecco qua Perfetto Hai ottenuto un verso sigillato Hai ottenuto la magia esplosione oscura Che se vi ricordate Era quella che abbiamo utilizzato All'inizio del gioco Quindi adesso Vedete Mmm si Piol meno No ne eccoci su conto mi vuol dire che bella posto e per chi non la sapesse si chiama bluebird da Eh, con i perry E' molto più easy Ah, l'ha preso? Oddio Pensavo di averlo parriato Eh, l'attacco potenziato Giustamente non lo posso parriare Perché mi spezza la difesa Cioè, lo devo parriare bene Perché altrimenti mi spezza la guardia Ah, l'attacco potenziato Ok Rischio Hai ottenuto la lancia oscura Premi LB e scagliare una devastante lancia oscura Carica l'attacco per aumentare il numero di lance Cambiare magia e abilità Premi il tasto opzioni In questo caso Per aprire il menu Poi seleziona magia e abilità Per assegnare Ovviamente per ora Non ne abbiamo Tantissimi Oh, porca miseria Non ne abbiamo Vedete? Diventa una danza, praticamente. Oh. E' perché giustamente non posso cancellare l'animazione, quindi se faccio un attacco un po' più, diciamo, faccio una combo un po' più lunga, non posso cancellare l'animazione. Ecco. Ecco. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Lo sapevo che dovevo curarmi, ti prego non me la fare ricominciare da capo! Ok... Lo sapevo che dovevo curarmi ma non mi sono curato per... Un eccesso di confidenza che avevo... Ho peccato... Ho peccato di superbia in questo caso... E ho sbagliato... Ho peccato... Ho peccato... Ne vedete se fai la combo... Ho peccato... 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 Finalmente abbiamo salvato Yona A quanto pare A quanto pare e avevamo già visto noi questi sintomi ecco qua e ora però sappiamo che cosa sia la necrografia quindi già il nome ci suggerisce necro e grafia che sono due parole che bene o male tutti conosciamo necro da necrosi o in generale dalla morte quindi quando un braccio o un'articolazione va in necrosi vuol dire che per l'appunto sta morendo e grafia che paradossalmente sta ad indicare la scrittura quindi è una sorta di morte con la scrittura o comunque una morte legata alla scrittura e se ci avete fatto caso nel braccio di Iona in questo caso sono apparse delle parole o comunque sembravano comunque un insieme di parole un insieme di frasi quasi però la conoscono già sentite è una malattia che è conosciuta in questo universo è cominciata circa un mese fa quando noi abbiamo visto che comunque l'altra Iona era mille anni nel passato esatto che si diffondono in tutto il corpo quindi simboli runici linguaggio runico temo che sia mortale lasciamola dormire perché al momento ovviamente non possiamo fare altro qui abbiamo preso altri oggetti e usciamo cosa possiamo fare? e usciamo Sì La lingua dimenticata di cui vi parlavo poco fa Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il nostro prossimo obiettivo è raggiungere il nido. A questo punto raggiungiamo la destinazione del nido e direi che ci possiamo salutare. Così la prossima volta continuiamo proprio dal nido. Missioni. Ecco qua. Partiamo con le side quest. Alcuni abitanti ti affideranno degli incarichi. Per passare in rassegna premi pausa, ovviamente, per aprire il menu. Poi seleziona Grimoire Wise e quindi la scheda missioni. Esatto. Questa è l'introduzione del... Sono side quest che comunque farò per conto mio. Perché le farò per conto mio. Però questo è un invito per entrare nel villaggio. Esatto. Vedete? Tutti questi NPC che hanno praticamente il fumetto in testa e nella mappa si vedono con il cerchio bianco e nero. Sono tutte side quest. Quindi prendiamole. Maledetto cinghiale. Questo è il cinghiale che si vede nella clip delle live su Twitch che ho all'inizio. Che è un avversario molto forte e che si può battere in un metodo molto molto lento. Se si vuole battere adesso. E penso che lo farò. Adesso che so come si fa. Perfetto. Ok. Ok Va bene Queste sono tutte side Questo quindi Le possiamo accettare Velocemente Dieci pezzi di montone Va bene Pronto e mare Questa è un'altra città Ah questi sono già Per la side quest Va bene E allora Ah questo è sempre un altro Che mi aiuta per la missione Delle galline So già Dove nascondono le uova Le galline però Prima voglio farvi vedere Dove andare Ok Anche questa è un'altra missione Ok Ok Ah sì Questo è l'oggetto fragile Quindi se faccio così Esatto Si è rotto E' un'altra cosa E' un'altra città E' un'altra città E' un'altra città E poi la prossima volta Riprendiamo ovviamente dal nido E vi faccio vedere E vi faccio vedere tutto il resto Vedete qui c'è il tizio con cui posso riparlare Quindi ci parlerò poi Farò tutte le side quest Perché queste side quest Sono veramente easy Però prima vi faccio vedere Dove è il nido Vedete le pecore Vengono evidenziate Anzi no Questi sono i E' un'altra città S'è E' un'altra cosa Sto Di più Unico Chi ero E' unico Sblocato E' unico E' unico Sblocato E' unico E' unico Che sarebbe questo Che rilascio E fanno più danni Però per ora andiamo avanti E' inutile perdere tempo a combattere Anche perché devo chiudere Questo episodio Io ogni volta che vedo nemici Mi metto a combattere perché mi diverte il combat system Però capisco che Ho dei tempi da rispettare Quindi li rispettiamo Eccolo Quello è il cinghiale a cui facevamo riferimento prima Che è quel maledetto cinghialozzo Che dovrò uccidere per la missione Del cinghiale E mi porterà via un sacco di tempo Ragazzi ma veramente un sacco di tempo Esatto e questa è la zona del nido Qui per il momento Non c'è nulla da fare E ora qui esatto C'è la cassetta delle lettere E noi Ci salutiamo E poi la prossima volta Esploreremo Questa zona Ovvero il nido E si chiama così Perché se ci fate caso Ha praticamente la forma Di tanti nidi di uccelli Che sono messi praticamente Sulle pendici della montagna Ecco da dove proviene il nome nido Esatto Quella è la casa del capovillaggio Vedete È dorata Quindi Riconoscibilissima Anche se l'indicazione Che ci avevano dato Era la casa più in alto E ovviamente Ci sono altre case Più in alto Ma non ci si può andare In quelle case più in alto Quindi Il riferimento Che noi dobbiamo avere È esattamente La casa dorata Però Detto ciò Noi salviamo Aspetta Ok questo Sì Prima che cancello Gli altri dati Che invece mi servono E Noi Ci vediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima